Ciao a tutti, io sono Rosy di Parrucchieri Revolution e mi occupo di salute e bellezza del tuo capello. Se vuoi avere delle informazioni in più, se vuoi sapere come fare ad avere capelli belli, sani e forti, vai sul nostro blog e scarica Parrucchieri Revolution, Revolution Wave. Come avere capelli belli, sani e forti? Sempre, tutti i nostri consigli, tutti i miti da sfatare per avere capelli sani, forti e belli. Non ti piace più, non ti guardi più allo specchio, quando passi davanti alle vetrine non ti fermi più. Prima ti piaceva andare a fare shopping, ti piaceva entrare, ti piaceva guardare le vetrine, adesso col fatto che non ti piace più quando ti guardi allo specchio, non fai più neanche shopping, non ti stai comprando più nulla, la tua autostima sta andando pian piano, pian piano, sempre più giù. Non riesci più a fare nulla, ti sei resa conto che la tua bellezza, che i tuoi capelli non sono più come prima. Prima ti piaceva guardarti allo specchio, prima ti piaceva mettere le mani nei capelli, sentire la massa che avevi, guardare il tuo colore di capelli brillare. Adesso ti guardi allo specchio e nel giro di una settimana il tuo colore, soprattutto in questa zona, non dura una settimana, ti schiarisce, ti sbiadisce, diventa brutto e quindi non ti piaci, ti sei resa conto che c'è qualcosa che non va, prima ti piacevi, la tua autostima era sempre alle stelle, eri fiera di andare in giro, eri fiera di guardarti allo specchio, adesso zero. Ti voglio svelare un segreto, lo sai che parecchie clienti nuove sono venute alla revolution e hanno capito che il loro disagio, la loro autostima, la loro non voglia di guardarsi allo specchio era dovuta in parte al fatto che i loro capelli non erano più come prima, non brillavano più, non c'era più consistenza, quando andavano anche dal parrucchiere, anche tutte le settimane, ma la loro piega durava poco. La tua autostima può essere che sia andata sotto i piedi, proprio perché non riesci più a guardarti allo specchio, non vedi più la bellezza che vedevi prima guardandoti allo specchio, non parlo di bellezza di persone belle o brutte, parlo di te stessa, del piacere di sorridere quando guardi la tua immagine riflessa allo specchio. Il tuo disagio, la tua autostima che va sotto i piedi può essere risolta, può essere risolta. Se ci contatti 0371898900 oppure 3409973923 noi ti possiamo aiutare, possiamo far sì che la tua autostima ritorni come prima insegnandoti e con una consulenza a capire cosa il tuo capello ha bisogno per ritrovare la bellezza che aveva prima, per ritrovare la persona che guardavi allo specchio e il sorriso ti usciva in un attimo, per ritrovare la voglia di guardarti allo specchio, la voglia di andare a fare shopping, la voglia di fermarti a guardare le vetrine. Noi possiamo aiutarti attraverso la consulenza, la consulenza mirata per te che ridarà al tuo capello la bellezza che ha sempre avuto per ridare a te la tua autostima. Mi raccomando contattaci e scarica il libro Parrucchieri Revolution, mi raccomando. Ora ti saluto e ti auguro buon appetito. Ciao!